L'idea come spesso avviene per quelle migliori è nata in modo casuale, d'estate, quando i paesi si ripopolano con il rientro di persone che vivono altrove ma che hanno il cuore in Molise. E così a San Giovanni in Galdo alcuni professionisti, architetti, hanno confrontato la loro idea, il loro progetto con i giovani e gli amministratori del paese. Ne è venuta fuori un'iniziativa per creare e rilanciare attività, interessi, lavoro e sviluppo. Attraverso il turismo, una delle poche carte che San Giovanni in Galdo può giocare, muovendo dal recupero del centro storico si è costruito un progetto che ha come finalità principale quella di attrarre turisti, creando innanzitutto ricettività. Ma quali i prossimi step? A seguito della presentazione che è stata fatta qui in sala consigliare con la presenza delle istituzioni era l'elemento centrale per capire come reagiva un po' tutta la popolazione e far capire alle istituzioni soprattutto che questo potrebbe essere uno di quei progetti per dare eco, per dare voce a questo centro, a questo paese che ha come parte integrante questa zona che noi chiamiamo Morrutto. E sono cinque circuiti turistico-culturali proposti, l'albergo diffuso nel centro storico innanzitutto attorno al quale costruire una rete di iniziative con un museo e le botteghe artigiane. Ma come si intende procedere? Ma diciamo le distanze economiche quelle dipendono dall'accesso ai fondi europei e regionali prima di tutto e molto dipenderà anche dalla disponibilità delle persone che sono poi legittimi proprietari di questi ambienti perché loro se collaboreranno alla possibilità di poterci accedere sarà già un buon risultato, un grande risultato.